come caricare una foto o un esercizio per i corsi di arte per te andare su altro cliccare su foto scorrere album cercare l'album di riferimento col corso prendere la foto dell'esercizio cliccare sulla foto andare su commenta cliccate poi in basso dove c'è la macchina fotografica si aprirà una pagina scegliete il vostro file di riferimento cliccate su apri aggiungete un commento dove mettete nome cognome classe di riferimento o corso di riferimento cliccate poi sull'aeroplanino blu e avrete quindi inviato il vostro esercizio insieme a un commento tutto molto semplice